allora che cos'è la regolazione la regolazione è un processo nel quale il valore di una grandezza per esempio la temperatura viene continuamente generato e mantenuto con la misurazione costante di tale grandezza ne deriva quindi una sequenza di effetti che hanno luogo in un circuito chiuso quindi l'anello al circuito chiuso che è il circuito di regolazione perché questo processo si svolge essenzialmente si basa sulle misure di una grandezza ripeto per esempio la temperatura che a sua volta è influenzata da se stessa perché nella retroazione andiamo a leggere con un trasduttore la grandezza che noi vogliamo raggiungere quindi la temperatura che vogliamo raggiungere la controlliamo in retroazione in qualsiasi momento quindi appunto la grandezza da regolare viene continuamente misurata e confrontata con un'altra grandezza predefinita dello stesso tipo a seconda dell'esito di questo confronto quindi tramite un comparatore che sta all'interno del pid in questo caso la regolazione che fa adegua cerca di adeguare la grandezza da regolare al valore della grandezza predefinita che si chiama set point in questa immagine possiamo vedere a grandi linee come un blocco abbiamo un comparatore che compara il set point con la variabile misurata abbiamo l'elemento di controllo che appunto è il regolatore pid e poi andiamo a vedere nello specifico cosa c'è all'interno di questo regolatore poi c'è l'attuatore nel caso delle temperature potrebbero essere gli splitter per esempio l'aria condizionata l'elemento per il controllo finale per il sistema regolato e il misuratore questo è a grandi linee quello che è uno schema blocchi di un circuito di regolazione quindi le regolazioni si effettano quasi tutti ad anello chiuso quelle ad anello aperto sono poche e molto più complesse difficili da gestire in ogni caso in un regolatore ad anello chiuso la variabile da controllare variabile di processo process value che può essere la grandezza può essere la velocità temperatura eccetera è misurata e confrontata con il valore di set point cioè il valore che noi vogliamo raggiungere la differenza tra quello che noi vogliamo raggiungere e quello che misuriamo tramite il sensore in questo caso viene elaborata secondo le regole che noi impostiamo nel pid il risultato di questa elaborazione costituirà il valore di ingresso dell'attuatore che poi dovrà ovviamente agire per poter tendere per poter raggiungere questo set point quindi set point pid controller l'uscita del pid il processo vari disturbi che possono arrivare la variabile di processo pv con la retroazione e la lettura tramite un sensore un trasduttore questo è l'anatomia di un sistema di controllo ad anello chiuso